Lei dice che ti ha lasciato per dei problemi. Abbiamo senz'altro dei problemi, perché avevano altro. Io e Andrea ci siamo lasciati, è vero che sono andata via di casa perché avevamo deciso insieme, dopo essere diventati come un fratello e una sorella, un padre e una figlia, decidi un po' tu di lasciarci. Quindi tu non te ne sei andata perché avevi un altro uomo? Io sicuramente avevo anche incontrato un'altra persona che però non è stata la causa della fine del nostro matrimonio. Ma il fatto stesso che noi per anni siamo restati ottimi amici e ci sono tantissime persone che possono testimoniare questa cosa, dimostra che tra di noi non ci sono mai stati rancori. Non ho mai parlato? No, non ho mai parlato. Vi ho mai parlato? No.